Grazie a Pierluigi. Il giocare a calcio si comincia sin da piccoli in tutti i paesi del mondo. Sono anche le nostre squadre a regalare sorrisi ai bambini. Noi siamo andati a curiosare nell'Inter Campus israeliano. Giocare è un diritto e il calcio forse è il gioco più bello. Con questo spirito dal 97 l'Inter porta il suo campus nel mondo, tre bambini dai 6 ai 13 anni. Non c'entra il talento o un futuro da giocatori. Si pensa al presente in ormai 29 paesi. Stavolta il programma sociale dei Nerazzurri ha tappo tappa in Israele e Palestina. A partire dal West Bank siamo stati nel villaggio di Diristia. Siamo andati in un altro villaggio chiamato Gial Giulia, anche a Gerusalemme dove abbiamo un nucleo misto di israeliani palestinesi e poi finalmente a Tel Aviv. In queste trasferte cerchiamo di insegnarli principalmente a giocare con la palla, quindi a sviluppare i gesti tecnici. Attraverso questo insegnamento cerchiamo di trasmetterli dell'insegnamento un po' più importante, cioè imparano a stare insieme, imparano a rispettare delle regole. Non si tratta solo di giocare a calcio, ci dice Asher, papà di Vietan, 8 anni, uno dei bimbi israeliani coinvolti nel progetto, il cui idolo, manco a dirlo, è Leo Messi. Qui imparano anche a trattarsi come esseri umani, al di là degli stereotipi che uno è palestinese e l'altro israeliano. Il mio figlio è così contento, questa è una delle cose che richiede di più, racconta Sabrina, la mamma di un bimbo palestinese, Muhammad, di 9 anni, e anche per le famiglie è un'occasione per conoscersi, abbiamo fatto un piccolite tutti insieme di recente, ed è andata benissimo. Due volte all'anno una squadra di intercampus visita i progetti, che coinvolgono circa 10.000 bambini, seguiti invece quotidianamente da associazioni locali. L'idea è proprio di uscire dai ghetti, di mescolarsi, di divertirsi giocando a calcio, di riuscire ad avere degli allenamenti di livello. Possiamo sviluppare il progetto anche fuori dal campo, proprio come abbiamo fatto al picnic, e magari portare i bambini a conoscersi meglio, anche non soltanto col pallone, ma anche attraverso attività diverse. Il diritto al gioco è sicuramente la nostra missione, restituirlo perlomeno a tutti quei bambini che in tante aree del mondo lo hanno perso per molteplici motivi, povertà, guerra, problemi sociali di vario genere. E il calcio ha questa magia che riesce appunto a far parlare tutte le parole. Il campus ora si sposta a Cuba, in Paraguay, in Romania, in Russia, ma qui i bambini continueranno ad allenarsi e a giocare insieme ogni settimana. Per oggi è tutto, ma l'informazione di Premium Sport continua per tutto il pomeriggio, l'abbiamo visto con la diretta delle sfide che chiudono la 35esima giornata serie A e poi in serata Premium Monday e l'ammo viola è uguale per tutti, prima dell'ultimo TG. Grazie e buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.